Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dunque un altro piccolo regalo per chi mi segue oggi vi porto per questo programma di Iobit che si chiama Driver Booster in versione Pro che vi permette di aggiornare tutti i driver del vostro sistema sia in ambito gaming che non in modo completamente automatico all'interno della descrizione trovate 50 licenze Pro che dovete semplicemente scaricare vi lascio il link in descrizione sia per scaricare il programma e sia ovviamente vi lascio anche questa pagina che appare dopo aver attivato la licenza che mostra quali sono le particolarità di questo software che è comunque stato anche riconosciuto da Softonic o HTML.it quindi comunque siti che hanno una certa nomea dunque con la versione standard non puoi fare praticamente nulla con quella Pro che ripeto trovate in descrizione se caso mai prendete qualche codice poi segnalatelo nei commenti prendete scansione i file e i driver obsoleti in automatico li possiamo aggiornare in modo molto semplice vabbè alla massima velocità senza problemi e volendo anche una piccola pulizia al sistema inoltre aggiorna anche i componenti di gioco caso mai abbiamo qualcosa che non è esattamente aggiornato all'ultima versione disponibile poi vabbè c'è il supporto tecnico che si aggiorna andiamo a vedere il programma nella sua parte intera vabbè io di solito faccio attenzione ai driver disponibili diciamo per la scheda grafica o per la scheda di rete quando formato il pc magari servono quelli nuovi venendo conto e li scarico con questo programma non dovete fare niente quindi farà tutto quanto lui in automatico in questo caso mi ha trovato dei aggiornamenti per il bridge pci vabbè roba di tipo hardware e c'è anche una categoria anche se in questo caso ho aggiornato relativa al gaming dove ci sono vari componenti che però ho già aggiornato quindi come il visual c++ redistributable in varie versioni come possiamo vedere e poi anche il physics di nvidia che permette di migliorare la propria esperienza di gioco una volta installato il programma e sta in messa la versione però comunque non bisognerà fare altro cliccare su aggiorna ora e procedere quindi all'installazione farà tutto quanto in automatico non avrete nessun tipo di problema è possibile inoltre correggere errori di rete avere qualche suono gestire a bassa risoluzione pulire dispositivi diciamo non inseriti nonché avere l'utility per il ripristino di sistema se dovete aggiornare qualche driver un po' pericoloso magari che può darvi qualche problema potrete tranquillamente creare un punto di ripristino tramite il programma e effettuare appunto se qualcosa non va dopo l'installazione il ripristino di cui vi ho appena parlato ci sono tre temi diversi questo qua sembra che è più carino effettivamente posso selezionare lo sfondo vabbè questi sono piccoli dettagli e trovo anche informazioni sul menu per gli aggiornamenti le impostazioni eccetera nell'installazione bisogna dire che trovate anche un altro software di Hobbit per la stabilità del vostro sistema vi consiglio di andare a dare un'occhiata quindi per il momento è tutto vi consiglio il download comunque c'è la licenza gratis in descrizione fatemi sapere come sempre non ne pensate e vabbè vi ricordo come sempre di seguirmi su social trovate i link in descrizione io a me non resta io a me a me non resta che salutarvi e come sempre noi ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie